vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org gli fu messo nome gesù come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre santo maso da villanova spiega che questo nome fu riferito all'angelo e non deciso da lui non fu deciso neanche dalla madonna bensì dallo stesso padre celeste questo fatto viene profetizzato da esaia quando dice ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del signore indicherà ora il nome che dio sceglie per una persona o per una cosa esprime la sua natura o funzione cosa significa dunque questo nome nuovo che è gesù gesù significa salvatore come l'angelo gabriele aveva esposto a san giuseppe con le parole egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati santo maso da villanova osserva che non lo chiamò giudice né custode né vindice ma salvatore questo perché lo scopo dell'incarnazione è proprio la salvezza del genere umano signore gesù prega il santo questo vostro santo nome mi dà una fiducia sconfinata signore sì voi siete proprio gesù riconoscete il vostro nome quello che il padre vi ha imposto siate gesù per me io riconosco di essere prigioniero irretito nei legacci dei miei peccati incatenato dalla mia cattiveria stretto nei ferri della mia malvagità riconosco ciò che sono e anche voi gesù riconoscete ciò che siete di chi siete il salvatore se non degli uomini perduti dei prigionieri se non vi sono dei miseri dei condannati da liberare di chi sarete il salvatore se io vi ho rinnegato voi però signore siete fedele e non potete rinnegare voi stesso siete la verità signore e non potete contraddire il vostro nome come vi potreste chiamare il salvatore se non vi curaste di salvarci come vi potremmo dire misericordioso se a chi vi chiede pietà voi infliggete una condanna in dio non c'è finzione non è possibile l'inganno il vostro nome signore è la vostra identità vi chiamate gesù perché siete gesù abbiamo dunque fiducia di invochiamo il suo santo nome perché il signore stesso ci ha detto se chiederete qualcosa al padre mio nel mio nome egli ve la darà se mi chiederete qualcosa nel mio nome io ve la concederò e san pietro dice chiunque invocherà il nome del signore sarà salvato ad una condizione tuttavia aggiunge santo maso da villanova che lo invochiamo dal profondo di un cuore sincero in virtù del santo nome di gesù san pietro guarisce lo storpio presso la porta bella con le parole nel nome di gesù cristo il nazareno cammina ed infatti tutti i miracoli più grandi della chiesa nel corso dei secoli sono stati operati in virtù del suo santo nome questo nome guarisce gli ammalati dalla vista ai ciechi e la vita ai morti mette in fuga i demoni e libera gli uomini dalle tentazioni più violente questo nome fa scendere l'infinita misericordia di dio sul mondo nella santa messa ed è il garante eterno che la preghiera della chiesa sarà esaudita dal padre invochiamo questo nome dunque con cuore sincero e sempre con profondo rispetto e sacro timore ed invochiamolo costantemente che questo nome insieme al santo nome della madonna sia la nostra unica speranza nella vita intera e nell'ora della nostra morte pronunciamo con grande devozione la preghiera meditata da santo maso da villanova e santificata nel corso dei secoli della chiesa gesù si il mio salvatore jesus sis mi jesus amen in nomine patris et fili et spiritus sancti sia lodato gesù cristo vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visite il sito www.radionomalibera.org